Cosa vuoi fare nella vita? Non ne hai idea? Ci sono un mucchio di possibilità. Certo è difficile fare il primo passo dalla scuola o dall'università al mondo del lavoro, ma è sufficiente sapere dove e come cercare per partire con il piede giusto. Forse sei come Peter. Qual è la sua storia? Quando ha iniziato a cercare lavoro nel suo paese aveva 16 anni. Ciò di cui aveva davvero bisogno erano informazioni, orientamento, opportunità formative e la possibilità di contattare i datori di lavoro. Le agenzie di assunzione e i servizi pubblici per l'impiego erano una buona scelta. In effetti i servizi pubblici per l'impiego sono molto utili per chi cerca un aiuto online, per telefono o mediante un ufficio vero e proprio, poiché hanno una rete di oltre 5.000 uffici in 31 paesi europei. Dispongono inoltre di un gruppo di consulenti EURES che possono darti informazioni se desideri lavorare in un altro paese dell'UE. In tal caso assomigli più a Gabriella, che a 18 anni ha deciso di lavorare all'estero. Il progetto Il tuo primo lavoro EURES era perfetto per lei perché è ideato per aiutare i giovani a trovare un impiego in Europa. L'obiettivo è far corrispondere i profili di chi cerca lavoro con le offerte di lavoro esistenti presso aziende di altri paesi, aiutare a compilare le domande e dare consigli per i colloqui, eccetera. È anche possibile ricevere denaro come contributo per le spese di viaggio per recarsi al colloquio o per trasferirsi all'estero per lavoro. Oppure l'idea di lavorare per qualcun altro per tutta la vita non ti piace? Allora sei come Sara, che a 17 anni si vedeva già imprenditrice e aveva idee fantastiche per la propria attività. Prima però voleva acquisire competenze ed esperienza sul campo, lavorando per una PMI, piccola e media impresa, un trampolino di lancio per avviare la propria azienda in futuro. Sara ha scoperto alcuni progetti molto validi nel proprio paese, che esistono anche a livello europeo e che danno ogni tipo di sostegno, compresi contatti con potenziali datori di lavoro e opportunità di finanziamento come il microcredito. Quindi, tornando a te, non ti entusiasmano tutte queste opportunità a disposizione? Ottimo! Perché il mercato del lavoro in Europa ha davvero bisogno delle tue competenze, idee ed energie, indipendentemente dalla formazione, dall'esperienza o dai titoli di studio. E allora che aspetti? Non esitare e fai i primi passi nel tuo futuro. Il tuo primo lavoro è molto più vicino di quanto pensi.